Si attacca al montacarichi Ma te hai idea di quanto pensai? Ma che sarà mai? Era un ragazzetto giovane Ma che sarà mai? Ma te hai idea di quanto pensai? Lo faccio io con il mio collega Vai vai Fatelo voi Ce l'ha fatta levare dalle scarpe Eeeeeee Ciao Sono 12 kg e meno Facceva scegliere giù Lo cidavi su Lo cidavi Mettavi il pallone Giù ci andava bene da scegliere Ma scegliere Beh Nell'800 devi consumare la tua schia E' 12 x 32 Vedete quel che ti viene? E' quello E' quello Le standard Alto 80 94 colonna Maramea 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 Ma sente la? Ma sentirai le canzoni Per nulla e meste siam partiti bene Sia finiti bene Dalle stelle alle staspe Dalle stelle All'allero All'allero La filiera, quella che la giravi in due, da quattro, da quattro da tre pollici, quattro pollici, da quattro pollici, quella della due pollici, quella della due pollici, quella della due pollici, e l'ho fatto eh? Sbagliavo in imperatura e ripreso la giornata. Dalle bocca boccole che tirava e si staccava, il volto santo scappava via. Eppure era così, c'era altro. E' stata portata a piani la mamma mia. E' stata portata a piani quando l'avevi portata una sola. Esce una volta la turbazione del gas con il caudifetto, giovane, me lo chiamai a darmi una mano sul lavoretto, no? Ho aperto ditta che puoi, se ne hai metto una mano presi il banchino, no? La madre vitae. Ma che è quell'affare lì? E che non hai mai fatto gli impianti? C'è lo sicuro è accaduto. Senza pompa. Non l'ho fatti ma l'ho riparato. L'ho visti ma non l'ho fatto. Io ho parole, ho parole. Ma che è quell'affare lì? Il banchino? Non aveva mai visto il banchino? E' un po' più piccolo quando è davvero la regione. E' un po'.